Gianni, piacere! Molto lieto! I vostri vini sono meravigliosi, mi parla un po' dell'azienda, vostra posizione. L'azienda Farnese Vini nasce a Tortona, in Abruzzo, e si è sviluppata in Abruzzo. Nel frattempo ha sviluppato altri progetti ed è presente globalmente in cinque regioni del Sud Italia. Infatti la Farnese Vini può essere considerata uno specialista del Sud Italia, perché ha aziende in Abruzzo, Puglia, Sicilia, Basilicata e Campania. E' tanto, eh? Sono tante regioni, sì. Per questo ci consideriamo veramente uno specialista del Sud Italia. In questa serata abbiamo vini dalla Abruzzo, ovviamente, iniziamo con il Trebbiano, e finiamo con il nostro top di gamma, che è l'edizione 5.8. Ci sono quanti bottiglie all'anno in totale? Non abbiamo una grandissima produzione di questo prodotto, perché di edizione ovviamente è un prodotto che viene fatto con cinque uve diverse, Montepulciano, Primitivo, Sangiovese, Negromaro e Baldassia Nera. Abbiamo una produzione che è di circa 170-180 mila bottiglie l'anno, non di più. Ma in totale i Gifarnese sono? In totale, con tutte e cinque le regioni, dovremmo arrivare intorno ai 15 milioni di bottiglie. 15 milioni? Troppo bottiglie? Beh, è il numero giusto per chi rappresenta in maniera importante di cinque regioni vitimitale italiana. Grazie mille Gianni, auguri! Grazie.